No, ma non è vero, perché ha già stato chiudito giù, ha già stato chiudito giù veloce prima, gli ho dato più gas che mi ha chiamato il problema, ma no, se no, ha fatto la città, ha passato. Grazie a tutti. 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 Sto scendendo la marcia in moto, però ora si è scusata una volta, che ti do la trazione, praticamente mi permette di tenere la stessa posizione più precisa, oppure di rallentare con il fuoco che mi serve, si voglia raffinare un cazzo e raffinare, ma guarda che ti fa un effetto, come ti dici, tipo un motoscafo, tipo nell'elica, nell'acqua, che non vedo qui. Non vedo che c'è stata la gente che bulla, che qui inizia a fare, se inizia a fare, se inizia a fare, se inizia a fare, se inizia a fare. E' se inizia a fare, se inizia a fare, se inizia a fare. per fare una punetta, non è vero, è vero per ripasarsi, no? e poi facendo tutti i guaglioli, che i guaglioli non scendono le tue casse, non vogliono viaggiare io ci rimane veramente solo dentro, perché la roba è una cosa uscita, mi hanno mancato i morti qui lì è vero, è vero, è vero, è vero merda toccolava eh, è vero, è vero, è vero è vero, è vero non c'è lì, non c'è lì, non c'è lì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.